Paura e apprezzione per la pubblica salute a Lecce dove un vasto incendio interessato nel pomeriggio di ieri la zona industriale. Le fiamme che sono divampate all'interno del deposito della ditta Aspica che sorge lungo via Gran Bretagna hanno infatti mandato in fumo centinaia di ecoballi di plastica e carta derivanti dall'attività di raccolta differenziata che l'azienda attualmente in stato di liquidazione aveva stoccato presso il proprio deposito. Tra l'altro la struttura è interessata da un sequestro giudiziario ma nel deposito ancora presenti tonnellate di rifiuti da smaltire. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo salentino che hanno impiegato diverse ore prima di domare le fiamme. La densa e nera colonna di fumo che si è levata dal cumulo di rifiuti mentre ancora bruciava era ben visibile anche a chilometri di distanza. Sul proprio profilo facebook l'assessore comunale alle politiche ambientali e delegato alla protezione civile Andrea Guido aveva lanciato un appello alla cittadinanza scrivendo di avere il dovere di informare tutti i cittadini che risiedono nelle zone rimitrofe all'agglomerato industriale delcese che la combustione dei materiali andati in fiamme poteva rappresentare senalata direttamente un pericolo per la salute e pertanto il consiglio era stato quello di tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni fino a quando la nube generata non si fosse dispersa del tutto. L'assessore Guido infine aveva dichiarato che quello di ieri è il secondo grave incendio che colpisce la città nel giro di pochi giorni augurandosi che non ci sia dietro un'origine dolosa perché se così dovesse essere vorrebbe dire che in giro c'è gente così stupida da mettere a repentaglio la salubrità dell'area che respira un'intera città. Gente meschina ignorante senza scrupoli che forse pensa ancora che la questione ambientale sia argomento lontano e che interessi solo politici e tecnici.